Buongiorno a tutti, oggi in questa diretta desidero parlare relativamente all'apprendimento e qualcuno di voi già avrà riconosciuto le immagini che ho inserito. Allora, cominciamo a scrivere qualcosa. L'apprendimento che è intimamente connesso con il metodo di studio e che è intimamente connesso con l'intelligenza. Nella storia della ricerca sull'intelligenza, nell'ultimo secolo, si è avuto un ritmo di ricerca molto molto elevato e nei primi del Novecento in Europa e nel Nord America quando la società si trovò a reagire a forti mutamenti sia dovuti allo sviluppo economico sia allo sviluppo tecnologico avvenne che le conoscenze scientifiche e il loro uso pratico infondevano ottimismo ai bisogni speciali, sociali e quindi vi era un desiderio di studiare il comportamento umano. Scusate se una parte non si legge, voglio rimanere a livello della riga. Quindi comincia a nascere la visione dell'uomo come un sistema macchina di cui valutare e studiare come ottimizzare le prestazioni e i livelli di efficienza in merito all'apprendimento e all'intelligenza. Quindi ovviamente tutto poi si ricollega. Si cominciò ad avere la possibilità di misurare l'intelligenza e qualunque cosa si intendesse per misurare l'intelligenza questa costituì una delle massime aspirazioni delle scienze umane e della psicologia sperimentale. Quindi comincia ad esserci la misura che ovviamente, ripeto, riguarda soprattutto la parte delle scienze umane e della psicologia ma anche della pedagogia. Ovviamente la misura dell'intelligenza è relativa anche alla caratteristica umana in termini di intelligenza a una multifattorialità che dipende dai anche tratti individuali dell'essere umano. E quindi spesso si ricorreva a stime indirette come la capacità di percezione o riflessi percezione riflessi puntini puntini queste sono stime indirette dell'intelligenza perché si aveva la convinzione che l'intelligenza non poteva essere altrimenti rilevabile. Poi vi erano concezioni estreme che condicevano a un uso smodato delle ricerche e degli studi nel campo della psicologia ma anche segno premonitore di dove potevano portare gli interessi della scienza applicata all'uomo. In particolare Robert Stenberg e Elena Grigorenko scrivono relativamente alla prassi del testing che avviene in America lo metto virgolettato a un certo momento dopo che tutte le operazioni relative al test sono finite dopo il test e qua ovviamente faccio una sintesi ciascun soggetto esaminato riceve di solito il solo feedback che lui o lei avrà mai un rapporto su un punteggio o su una serie di punteggi ovviamente c'è un punteggio finale a partire da quel momento l'esaminato sarà probabilmente già studiando per un altro o altri test futuri questo fa parte di un libro di Stenberg e Grigorenko del 2004 ma soprattutto nella scuola la necessità di rispondere a criteri di efficienza tende ormai quindi a condizionare metodi di valutazione delle capacità individuali scusate a me piace molto la diretta e mentre parlo scrivo in ogni caso e poi ovviamente scrivo probabilmente le parti che credo abbiano un rilievo maggiore e quindi ci sono delle inevitabili attese però io penso che questo non comporti un problema anche perché stiamo dicendo cose abbastanza avanzate e quindi la scuola si concentra l'attenzione in modo sempre più pressante sulla questione degli standard perché? perché deve determinare gli obiettivi di apprendimento da raggiungere obiettivi di apprendimento ovviamente io cerco sempre di dare una declinazione che si ricolleghi alla scuola quando vado a fare delle analisi diciamo in cui io non invento niente mi vado a ricercare vari documenti varie pubblicazioni che sono state fatte nel corso della scuola e cerco di riportarvele in maniera sintetica la valutazione quindi della prestazione cognitiva a scuola e più in generale dell'intelligenza si concentra quasi virgolettato con fare maniacale sui comportamenti considerati carenti con lo scopo avvertito o meno di facilitare la differenzazione e quindi di dirigere i processi di formazione e di orientamento professionale e sociale quindi inerente inerente all'apprendimento all'intelligenza al comportamento umano all'uomo al sistema macchina vi è la scuola che valuta l'efficienza al fine di fare una valutazione delle capacità individuali per trovare gli obiettivi di apprendimento e dare un orientamento professionale ma sicuramente quando l'orientamento è professionale è anche sociale lo sapete benissimo lo sappiamo benissimo abbiamo fatto diversi video a riguardo è interessante Forgestine ed eccolo qui Robert Forgestine perché vi era un paradigma scientifico e culturale che condizionava gli intellettuali e affondava le proprie radici in una visione fissista e comportamentista dell'essere umano e quindi ha oltrepassato i traguardi a mio avviso raggiunti da Piaget e da Ray probabilmente alcuni di voi già avevano capito i volti avevano già individuato le immagini di Piaget Ray e Forgestine perché ovviamente sono collegati e Forgestine in particolare ha esplorato la mente e la sua base neurale cogliendo il valore dell'intersoggettività dell'esperienza umana più di quello di una visione determinista dei tratti umani lo scriviamo qua inter soggettività poi lo riprenderemo questo discorso sempre in merito alla scuola lui Forgestine era profondamente convinto e adesso le neuroscienze l'hanno dimostrato quindi adesso possiamo dire che è certo che è così che la mente ha una natura plastica mente plastica che significa significa che vi è una plasticità dei processi neurofisiologici che interessano il pensiero e l'apprendimento ed ecco qua che ci ricolleghiamo sempre all'intelligenza al pensiero e all'imprendimento e dopo tanti 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 anni di lavoro è andato ad esaminare le capacità mentali di bambini e giovani ha cominciato ciò da cui ha cominciato a ragionare è stato il rifiuto di esaminare le capacità mentali di una persona solo in termini di misurazione di abilità acquisite e compiute e invece voleva andare a determinare tutto il potenziale insito all'interno disponibile all'interno dell'individuo anche se non si manifestava quindi lui andava sicuramente ad esaminare le capacità mentali però era sempre interessato so che si parla noi utilizziamo alcuni dicono il 10 altri 20 altri 70% delle nostre capacità mentali lui bene dice ma è possibile che all'interno delle nostre capacità mentali ci sia un potenziale nascosto lui assolutamente ne era certo e in parte le neuroscienze gli hanno dato ragione ciò che negli ultimi anni si comprende sempre meglio a livello di ricerca neuroscientifica infatti è che tutti gli organismi biologici sono sistemi complessi e il cervello è anch'esso a sua volta un sistema complesso e la complessità del cervello dipende dal fatto come dire che è un sistema che si caratterizza quindi io direi che oggi stiamo parlando ovviamente se parliamo di intelligenza apprendimento comportamento umano ovviamente anche del cervello o della mente che è un'interazione di una serie di componenti che interagiscono tra loro in maniera distribuita autonoma e non lineare attenzione io sto ancora sto in realtà ancora parlando dello stile di apprendimento o dell'apprendimento è solo che sto cominciando a dare una visione più vicina alla non dico alla realtà a quello che si è capito negli ultimi anni quindi riparlando della scuola noi possiamo dire che ogni metodo di insegnamento e questa volta dato che è un argomento leggermente diverso lo mettiamo in verde ha l'obiettivo di sviluppare potenziare le abilità cognitive sviluppo delle abilità cognitive questo è quello che facciamo o cerchiamo di fare noi insegnanti e questo ovviamente si basa riprendo di nuovo il discorso lo ribadisco sull'ipotesi che non è più un'ipotesi della plasticità dell'intelligenza quindi dell'intelligenza che non è quantificabile in termini assoluti e immodificabile ma è un'intelligenza anch'essa dinamica che può variare e modificarsi col tempo a qualsiasi età e quindi vi è la capacità di migliorare incrementare la capacità di ragionamento di qualsiasi persona e quindi Forresten a un certo punto crea proprio un metodo che consente di sviluppare la consapevolezza dei traguardi raggiunti durante il percorso quindi all'interno del metodo vi è lo sviluppo questa è una parola importantissima della consapevolezza dei traguardi raggiunti l'approccio pedagogista di Forresten è di tipo sistematico ed è basato quindi sulla teoria della mente plastica o possiamo dire con un sinonimo modificabilità cognitiva ancora molti di noi queste cose non le sanno pensiamo di avere un'intelligenza e che essa sia derivata unicamente da sia solo di origine biologica e che nasciamo con una determinata intelligenza una volta che è tale non possiamo fare niente quindi questo si contrappone alla teoria innatista cioè che noi nasciamo con una determinata intelligenza e invece questa teoria ritiene che le facoltà intellettive dell'individuo possono essere accresciute sia nell'età evolutiva che durante tutto l'arco di vita quindi il metodo di insegnamento lo sviluppo delle attività cognitive o delle abilità lo sviluppo della consapevolezza tutto questo può avvenire vadate bene per tutta la vita non si smette non solo mai di imparare ma di modificare e anche di poter migliorare la performance intellettiva ripeto in qualsiasi condizione fisica o psicologica è quindi possibile sviluppare abilità cognitive e quindi di conseguenza è possibile migliorare la qualità dei rapporti con l'ambiente come andando a stimolare stimolazione delle abilità cognitive abilità guardate bene questo è utile sicuramente a livello di concorso però è utile secondo me a livello proprio di cultura generale nostra cioè ovviamente sapere che noi possiamo andare a modificare a migliorare le nostre abilità non solo dei nostri studenti ma anche le nostre ovviamente potrebbe almeno a me è un qualcosa che mi interessa tantissimo tutto questo è confermato da analisi scientifiche perché tramite ci sono delle risonanze magnetiche funzionali che vanno a monitorare l'organo la mente il cervello in attività in tempo reale e vanno a evidenziare che i comportamenti nuovi vanno a si ripercuotono su tutto il cervello e quelli i comportamenti invece consolidati producono dei mutamenti permanenti quindi si va a comprendere come il cervello in realtà sia continuamente voi sapete che il cervello è formato da neuroni da sinapsi che vanno a collegare tutte le reti neurali e si è andato si è scoperto insomma che è assolutamente è possibile tramite nuove azioni mirate è possibile andare a modificare lentamente ovviamente ma è possibile modificare la struttura del nostro cervello quindi dobbiamo stare attenti perché ovviamente la scienza analizza un elemento isolandolo quindi la mente noi che siamo anche educatori dobbiamo avere un approccio complesso che include aspetti cognitivi culturali effettivi e motivazionali sto scrivendo poco perché in realtà lo spazio mi è finito non voglio andare oltre una slide per diretta questo fa sì quindi che tutto quello che noi impariamo può essere generalizzato trascendendolo immediato e può essere riproposto in altre situazioni se qualcosa non vi è chiaro lasciatemi i commenti a me questi elementi mi hanno sempre affascinato quindi io ripeto ve li dico sia per il concorso perché ovviamente secondo me è bene saperle queste cose sia perché è affascinante proprio nel comprendere nella vita per risolvere i problemi che ognuno di noi può avere perché perché se in un determinato istante noi non siamo siamo incapaci di risolvere un problema quindi se vi è l'incapacità un'incapacità devo essere sintetico è possibile che dopo circostanze diverse si ovviamente ritornandoci sopra si riesca a trasformare questa incapacità scriviamolo di nuovo in verde che è bello incapacità vi può essere una nostra evoluzione della mente che ci permette di affrontare quello che prima non riuscivamo e quindi secondo Forrestain non lo dico solo io l'apprendimento si verifica in seguito a stimoli diretti ma anche grazie all'azione di un mediatore e il mediatore immaginiamo chi è è l'insegnante la figura del mediatore è fondamentale come una madre esercita l'azione mediatrice sul bambino fin dalla nascita che sceglie quindi stimoli adatti e li propone usandoli in diversi contesti e ne elabora i risultati quindi un mediatore esperto un insegnante esperto applica gli stessi principi però non in maniera estentiva ma con consapevolezza lo scrivo in verde grosso con oddio forse troppo grosso consapevolezza vi sono tre vincoli di cui vivarlo e poi finiamo il video li scrivo vediamo sempre in verde abbiamo tre immagini usiamo i tre vincoli vi è il tempo che è un primo vincolo ossia lo sviluppo di esperienze di apprendimento mediato deve essere adeguatamente lungo chi riceve gli stimoli deve avere in un qualche modo la possibilità di metabolizzarli di ricepirli di svilupparli di farli propri scusate ovviamente il metodo che si utilizza quindi solo i formatori esperti solo i docenti esperti che conoscano adeguatamente le diverse sfaccettature del metodo possono operare con successo e infine il contesto e l'ambiente di apprendimento deve esserci un ambiente favorevole e collaborativo che condivida le aspettative create nel rapporto allievo mediatore e riconosca e valorizzi i progressi anche più piccoli del soggetto quindi l'individuo oggetto dell'esperienza deve essere inserito in un ambiente in grado di accettare e anche sicuramente di promuovere le nuove capacità il programma non avrà mai successo in un gruppo indifferente all'iniziativa o addirittura ostile questi vincoli che sono presupposti indispensabili tempo metodo contesto sono indispensabili alla riuscita del processo e quindi i mediatori didattici garantiscono uno svolgimento adeguato e pertinente della esperienza quando sono preparati in maniera idonea benissimo oggi vi ho parlato di qualcosa a mio avviso estremamente interessante che va ad essere complementare con quello che già avete studiato vi ricordo se vi piace il video se potete dare una mano qui ci dovrebbe essere il tasto iscriviti e attiva la campanella qui ci dovrebbe essere la possibilità di mettere un pollice in su e qui sotto ma un po' più sotto c'è sempre la possibilità di inserire i commenti io come al solito vi ringrazio e vi faccio un caro saluto perché siete veramente tanti generosi interessanti questa volta non vi ringrazio uno per uno perché forse sono andato già oltre il limite di tempo consueto un caro saluto da francesco samani non vi ringrazio